Se Silvio Mercai fa gol contro la Pontevecchio, tocca quota 10 in classifica a marcatori e dunque Nicola Marianeschi, portiere Castello del Piano, gli taglierà il codino in diretta. L'annunciamo? No, no. Il codino si taglia. L'annunciamo e facciamo così perché siamo già d'accordo con Nicola, siamo messi d'accordo prima della trasmissione con tanto di forbici e telefono in mano in panchina, dunque in caso di gol domenica ti tagli il codino. Sarà il gol numero 10, raggiungere la doppia cifra alla prima vera stagione in eccellenza sarebbe un grande traguardo per un classe 97. Capovolgimento di fronte e Mercai porta in vantaggio il Castello del Piano, complice anche una indecisione difensiva ospite su cross proveniente dalla sinistra. Vai, sei? Allora, trentesima giornata Silvio Mercai, quota 10 gol. No, no, no. Silvio Mercai, Silvio. Silvio! 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 Silvio. Appareggia! Oh! Nico! Nico! Chi cazzo? Berkai! 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 Appareggia! Alla fine ragazzi che c'è da non tannare l'altro Senza di spettacolo! Ale!